Dove andranno a sciare gli italiani nella stagione che segna la ritrovata libertà dopo le restrizioni causa Covid? A Livigno e subito dopo, in ordine di preferenza, a Roccaraso Rivisondoli e poi a Madonna di Campiglio in Trentino. Sono queste le tre mete preferite dell'inverno 2022-2023 nella classifica realizzata da HolyDoo, portale per la prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più frequentati d'Europa. L'Abruzzo è saldamente sul podio, con le due località della provincia dell'Aquila vicinissime al Molise che hanno saputo conquistare preferenze e consensi fino a battere destinazioni blasonate come, per dirne alcune, Bormio, Curmaiere e Cortina d'Ampezzo. Circa 100 chilometri di piste, fra le altre cose assistite dal più ampio e moderno sistema di neve programmata, 28 impianti di vario tipo, due cabinovie, il comprensorio scistico dell'Alto Sangro è il più noto e attrezzato dell'Appennino. Lo start della stagione c'è stato il primo dicembre, le scarse precipitazioni hanno imposto ora un momentaneo stop tecnico, ma si è pronti per ricominciare. La neve è tutti i modi per godersela dunque, ma anche un'eccellente dotazione alberghiere e commerciale, a Roccaraso rivisondoli, territori e relative amministrazioni che sanno accogliere e valorizzare gli investimenti degli imprenditori del settore. A Campitello Matese invece anche quest'anno la stagione parte in ritardo. Il collaudo della seggiovia principale, la del Caprio, è previsto fra giovedì e venerdì e solo dopo si potrà partire col tre bianca permettendo, perché i lavori di manutenzione e revisione all'impianto di innevamento artificiale potranno essere avviati, secondo alcune stime, in primavera.